Dal 25 al 28 aprile al Porto Turistico Marina di Pescara prenderà in largo la sesta edizione di Sottocosta, l'evento dedicato alla nautica da di porto, al turismo nautico e agli sport del mare per valorizzare il pianeta blu. Voluta e organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dal Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Asso Nautica Provinciale, la manifestazione si articolerà in quattro grandi settori, imbarcazioni nuove usate, accessorie e componentistica, pesca sportiva e servizi nautici ma anche tanto altro ancora. L'ingresso sarà gratuito dalle 10 alle 20 nei quattro giorni del Salone Nautico, un evento che cresce di anno in anno ritagliandosi spazi importanti nel panorama nazionale e conquistando consensi tra quanti intendono approcciarsi al settore sfatando il falso stereotipo che vede nella nautica una passione per benestanti. Siamo arrivati alla sesta edizione in un momento tra l'altro particolare per il settore della nautica che dopo tanti anni di grandi difficoltà ormai ha traguardato un risultato positivo. Già dal 2018 abbiamo recuperato, il settore ha recuperato quello che aveva perso negli anni precedenti ritornando quasi ai livelli del 2009 e le previsioni del 2019 sono anch'esse ottimistiche. Per quanto riguarda la Sona Nautica italiana e la Sessione di Pescara è sempre stata partner dall'inizio di questa iniziativa e si è sempre impegnata per completare al meglio il programma della manifestazione. A dimostrazione del fatto dell'importanza della manifestazione anche per la assonaria italiana si terrà nella nostra sede nel giorno di sabato un consiglio direttivo di assonaria nazionale. Un evento che tende a risvegliare l'amore e la passione nei confronti della nautica, quella minore, che è quella un po' alla portata di tutte le tasche e che vuole anche un po' sconfiggere questo stereotipo del fatto che la nautica sia un'attività dedicata solo a chi ha il portafoglio pieno. Ci saranno tanti momenti di approfondimento, di sensibilizzazione, il tema ambientale che è diventato ormai centrale in tutte le attività economiche e non può che esserlo anche per quelle che hanno il mare al centro.